Un saluto a tutti gli amici Biancorossi, si è tenuto oggi un incontro molto importante per il Monza, Confindustria Monza e Brianz, infatti proprio nell'anno del centenario hanno voluto dare un segnale alla comunità mettendosi al fianco della società Biancorossa e di chi vorrà partecipare al rilancio di questa prestigiosa realtà della nostra provincia. Un gesto simbolico di responsabilità sociale dettato dalla volontà di dare attenzione e supporto ai nuovi progetti rivolti ai nostri ragazzi e agli sportivi che attorno alla squadra e al centro sportivo Monzello troveranno sempre maggiori spazi e professionalità, un sostegno dal territorio e per il territorio. E' con questo spirito che proprio Confindustria Monza e Brianz ha voluto essere parte nel condividere le proposte di crescita e di sviluppo rivolte ai giovani e alle strutture proprio create per loro. Celebrare 100 anni del Monza-Brianza 1912 significa valorizzare il luogo, le persone e il tessuto produttivo della Brianza che nonostante il momento economico complesso non vuole dimenticare nessuna delle realtà che hanno contribuito allo sviluppo. Ovviamente alla presentazione della cerimonia c'era anche Gianluca Andrissi, già direttore tecnico del Vivaio che è stato nominato adesso come direttore tecnico del club. Noi l'abbiamo intervistato sulla prossima sfida che il Monza giocherà contro il Pavia. La squadra di Motta non è nella posizione migliore in classifica, un consiglio da dare? Beh, col misto ci confrontiamo da quando ha avuto questo nuovo incarico tutti i giorni, più volte al giorno, ma lui ha l'esperienza giusta per poter saper valutare la situazione. Ai tifosi invece cosa si può dire? Di rimanere compatti, uniti, di essere sempre vicini alla squadra così come è successo anche a fine partita domenica contro il Foggia. A cosa devono stare attenti in particolare del Pavia? Sicuramente la rabbia e la voglia di riemergere da una situazione delicata di classifica, quindi daranno l'anima. Domenica sarà una grande battaglia, una partita da affrontare con la giusta determinazione. Domenica dunque la sfida contro il Pavia da vincere assolutamente per il Monza. L'arbitro sarà Bellotti di Verona, coadiuvato dagli assistenti tedeschi e Mondin. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.